Sono Matteo, Matteo Tangi, in questo momento siamo qui al Spring Event Modern Leonard e devo dire che la prima volta che partecipo a uno Spring Event, questo inerente al mondo dei makers, personalmente tenterò di inserire anche il mondo dei sense makers, che significa unire al mondo dei makers quello dell'imprenditoria sociale, quindi tentare di creare un impatto sociale, non solo creatività ma anche creatività applicata all'innovazione sociale. Sinceramente l'ho reputo molto interessante, soprattutto gli interventi di Neil, di Thomas, sono stati grandi ispirazioni, considerando che fino a tre anni fa io leggevo questi nomi sui libri, dicevo che è bello, queste persone sono una grande ispirazione e oggi ho avuto l'opportunità di incontrarle. Quindi questo è quanto.